Mamma mia quanta sofferenza stasera contro questo Spezia di merda che ogni anno è la nostra bestia nera! Spezia di merda va con l'Inter, va con la Juve, va con Napoli per dei 3, 4, 5 a 0 e a San Siro puntualmente ogni anno lo Spezia ci deve sempre rompere il cazzo! Un primo tempo che poteva finire benissimamente 6 a 0 per tutte le occasioni create, i legni di merda, quei legni di merda dopo la partita di Champions League con la Contessa Lisburgo, altri due legni di merda nel primo tempo abbiamo preso stasera! Dopo un primo tempo dominato dove a momenti Tata Lusano con un'uscita a vuoto a momenti fanno gol, vabbè lasciamo perdere Tata Lusano, nel secondo tempo è successo di tutto! Siamo riusciti a complicarci la vita facendo segnare Mardini, 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 cesso vivente, cesso ampulante! Io l'anno prossimo ti lascerei allo Spezia Mardini, ti lascerei allo Spezia a marcire in panchina nello Spezia, cioè ricordiamoci che Mardini sta facendo la panchina nello Spezia, la panchina nello Spezia e stasera ci ha rotto il cazzo proprio lui, proprio Mardini! Se io fossi in Paolo Mardini stasera dopo la partita a casa lo prenderei a Cerfoni, a Schiaffogna di lì, come cazzo ti sei permesso di segnare proprio a Milan? Proprio Mardini ce la stava per complicare dopo il gol annullato a Tonali per un fallo che secondo me ragazzi fallo va bene tutto ma quello non è mai fallo nella vita! Gol annullato del 2-1, poi ci pensa Giroux che prima segna e poi viene spusso! Questa sera ragazzi veramente è successo di tutto! Io così a fine stagione il mio cuore non ci arriva! Io così a fine stagione rischio 3.000 infatti a partita! Perché non possiamo dominare un primo tempo e poi concluderlo solo con il risultato di 1-0 ragazzi! Cioè nel primo tempo potevamo fare benissimo 5-6 gol! I legni, tutte le occasioni create! Tata Usano riesce a far falla ma vabbè Tata Usano si sa! Ti fa la partita buona e quella successiva ti fa le uscite a farfalle perché Tata Usano è come dire non è capace di uscire fuori dai pali! Tata Usano è bravo fino a quando rimane in porta quanto tenta un'uscita lì diventano cazzi amari! Cazzi amari diventano! Comunque ragazzi della partita che cazzo dobbiamo dire? Cioè io non me ne faccio nulla se mi domino un primo tempo dove potevi chiudere 5-0 e poi nel secondo tempo rischi neanche di non portarla a casa! Questi con un mezzo tiro stavano per uscire da San Siro con un pareggio ma stiamo scherzando ragazzi! Stiamo scherzando! Milan non puoi permetterti queste cose! Non te le puoi permettere! Dobbiamo imparare che le partite vanno chiuse! Quando sei in vantaggio le partite vanno chiuse! Milan! Pioli! Le partite vanno chiuse! Non possiamo stare sempre a speranza a Girù che ci toglie le castagne da fuoco! Stasera Girù ci ha portato altri tre punti alla faccia di chi lo criticava l'anno scorso! È alla faccia tuttora di chi lo critica quest'anno dicendoli che in avanti è un soprammobile vivente! Intanto Girù ci porta i punti decisivi! Girù ci manda agli ottavi di Champions League! Girù stasera ci regala questi tre punti che ci fanno mantenere con un distacco di sei punti da Napoli capolista! Napoli che non si ferma più! Io pensavo sinceramente che oggi a Bergamo, considerando soprattutto l'assenza di Cavastella, Cavastella, come cazzo si chiama quel giorgiano lì, in Napoli potesse fermarsi! Invece no, in Napoli va sotto una zera a Bergamo, poi la ribalta con Osimène che in questo momento Osimène nel Napoli sta facendo il bel e cattivo tempo! Comunque ragazzi, infatti a parte stasera l'importante è aver portato questa benedetta partita a casa, ora possiamo andare a dormire a letto in maniera serena, più rilassata! Il peggio è passato ragazzi, voi nei commenti fatemi sapere se per voi c'era o meno il gol di Tonali, che poi tra l'altro c'era anche un calcio di rigore per il Milan, non solo annulli i gol di Tonali, ma non vai nemmeno al VAD a vedere il possibile calcio di rigore per il Milan, comunque fatemi sapere tutto sotto nei commenti, lasciate like a video, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanellina per non perdervi nessun mio video, ragazzi cosa dirvi, il video finisce qua, io vado a respirare un po' perché stasera veramente ho perso 10 anni di vita, sempre Forza Milan, ciao belli!